ha un problemino con questo collasso di funzione d'onda continuo a far collassare russole e non polcini e così bella è questa russola anche qui mi direte voi tassonomicamente di cosa si tratta perché io so che sono 200 varietà quindi non mi sbilancio di certo e lascio a voi questo compito importante di definire le varietà a me piace proprio spaziare in maniera folle sono un matto io sono matto però qui sento odore di polcino attenzione sento questo odore sentite non potete sentire tramite schermo io sento qua proprio odore poccino c'ho qualche sensazione sta per collassare la funzione d'onda attenzione attenzione con l'asta funzione d'onda con l'asta con l'asta caspita sa che ho sbagliato una cosina bene non si sia materializzato esattamente in porcino continua essere fiducioso perché mi sono trovato più vicino al versante di quarrata non so ancora se in questa puntata riuscirò a teletrasportarmi là che avete visto è appena iniziata la puntata ma sono ancora a rega sul monte albano dal cuore più che dalla ragione ragione mi direbbe tanto voglio vederla i prugnoli a maresca se riesci a beccare fungare visto che non ci sta più nessuno poi dopo vieni qua in puntata a vedere e poi vai magari a pesce e poi magari vai a sono a deposito andare ma io rimango ancora qua perché qua c'è la buttata nel porcino vedete qui c'è buio che anche se c'è il sole e poi muschio e non c'è vento zona riparatissima guardate qualche immensa quantità di muschio da esplorare questa è tutta esplorare anche io conoscevo solo alcuni funghi di cadetti ma le guarderò dopo ora si punta al porcino lo faremo comparire forse io amo questi luoghi queste poggiate muschiose ispirano tantissimo però se prima ho detto e sentivo il dolore del porcino questo momento no sento dolore di funghi ma non di porcino mio naso sviluppato mi rallenta mi allontana da questo sogno dopo ci e questa purtroppo però rimane soltanto un'area votata al galletto galletto che possiamo vedere anche in questo caso galletti diciamo questi due li prendo e quello li lascio sono teneri così sono più buoni se sono quelli grandi sono un po' non saporiti questi vanno bene non c'è la misura minima per il galletto lo sapete ovviamente io di solito piccoli li lascio questi li ho presi perché sono freschi poi non crescono più di tanto diciamo la verità quando l'hai visti l'anno scorso ho fatto un video sul porcino a proposito vedere quanto cresceva e mi hanno detto se te il porcino l'hai anche sfiorato o hai semplicemente toccato le foglie vicino o hai messo qualcosa sopra per coprirlo già hai modificato la sua crescita questo aspetto molto interessante voglio rifarlo riprovare più avanti quando potrò insomma un porcino piccolino fuori misura da vedere dopo qualche giorno e così vedrò un attimino se è vero questa cosa cercherò di stare molto lontano di non toccarla e vedere se cresce perché in realtà dice crescano molto rapidamente e poi si fermano ma se c'è un'interferenza si fermano subito spesso sono le lumache a fare questa interferenza voi sapete e infatti i porcini rimangono lì perché iniziano a mangiare le lumache e poi si rimangono tutti però fa parte del gioco ovviamente e siamo una vasta fungata di galletti ora quelli lì era un po fuori e questo invece tutto c'è dentro la fungaia questo lascio per una futura raccolta come andare nell'orto come dicevo andare raccolto cogliere i carciofi mi fa crescere un po' guardate questa è una fungata tutta lunga e infatti qua ne è spuntato un altro io sto cogliendo da giorni questi qua questi galletti e ovviamente questi li faccio crescere a volte sono cresciuti lentamente ci ho mandato il parente misterioso un galletto così l'ho trovato era solo raddoppiato per dire e poi invece questi qua dopo pochi giorni in questo qua manco magari c'era e lo trovo così è un po' strana la crescita dei funghi non è lineare è qualcosa di esponenziale e poi si ferma qua andiamo avanti vedete qua sotto tutto tutto buono è una specie di striscia che va tutta qua quindi se ne trovano altri non è l'arco come fanno i famosi cerchi le streghe li fanno sia la lepista lo fanno anche come sapete i prugnoli avete chiesto come fate a cercare i funghi facilissimo quando c'ho lo zaino io attacco dentro lo zaino questa e c'ho la mia sacca si vede? si vede il marsupio? questo si vede? vabbè si vedeva male ma è meglio così perché così non mi riconoscete per strada perché se mi vedete poi con questo coso attaccato dietro dite ah lui è fungaiolo e fa video su youtube io preferisco non essere riconosciuto ed essere scambiato per un normale ciclista un po' strano ma questo era insomma il mio obiettivo e per ora ci sto benissimo riuscendo ebbene ora è giunto il momento dalla fungai dei galletti che sta lì che tutti potete conoscere ma nessuno ci è venuto a quanto fare anche se ho rivelato più o meno dove si trova ecco io mi teletrasporto verso lì di ancora più ambiziosi andiamo a che tempo è sicuro che è giugno che non siamo a marzo non siamo a marzo anche se sembra marzo eh guardatela che situazione ne ho proprio sparsi in realtà non ci sono fulmini tuoni è una cosa più importante quindi si può andare mi raccomando se sentite fulmini e tuoni tornate a casa allora c'è un posticino a farvi vedere nuovo nuovo e questa volta fungai a nuovo ma su fungai a sicura perché io sono sempre stato convinto che lì c'è del porcino e ce lo troverò esattamente ora la montagna così bassa e se siete su un sentiero vedete un bivio qui non c'è alternativa dovete sempre prendere quello in salita qua ma che bella feritura avanti ecco dove avete la bici anche in posizione in periodo particolare si è trovato un enorme lecinum lepidum oggi non è l'obiettivo che stiamo cercando vedete qua ci chiamo ben altro però dico io vedete che ci scappa il porcino perché comunque è una zona vedete bosco misto che poi ho iniziato a apprezzare più del solito i galletti perché ho iniziato ad assaggiarli sulla pizza metterli sopra la pizza sono quasi meglio dei porcini sono rimasto male e quindi visto che sto qua ho cercato anche i galletti cioè cercavo quello che c'è ovviamente questi porzi sono buoni anche per i galletti oltre per i lecinum e poi un giorno magari ci sono anche i porcini e tanto un galletto guarda questo è un galletto perfetto un po' isolato ma questo galletto qui questo galletto qui ci fai perché è tutto sano poi i galletti i galletti vacati non se ne trovano e il bosco è nutrimento con questo splendido ciliegio però c'è qualcuno che ha un po' esagerato questo sicuramente l'ha tirato giù qualcuno che voleva arrivare delle ciliegie e poi l'ha scaricato non si fa così perché poi vi ritrovate il ciliegio che ve le fa lassù e c'ha anche ragione e mentre mangio il ciliegio e sputo il semino per mandarlo più in là a farlo nascere guardate questo è un melo melo cavolo non sembra neanche un melo selvato le fa grosse così ripasserò ovviamente tanto ci passo sempre di qui ripasserò e guarderò come diventano queste mele forse questo è un melo di un antico campo coltivato che sono ravvissuto quindi ho fatto vedere dove sono stato ho salito da Mignana diritto per diritto il sentiero avete visto la salita lì si sbuca al birillone birillone vuol dire fronte allo scodellino mi abbevero e poi andiamo dunque il crinale un pochino più sotto il crinato restante alluccio c'è quella fungaia che vi fa vedere quella possile fungaia che è d'occhio ma devo vederla dovevo vederla imbuttata ed ecco è il momento di vederla mentre gli altri vanno in luoghi sicuri io cerco la fungaia inedita perché mi darà una nuova zona fungaiola meno cercata anche molto ripida lì e quindi per pochi e quindi ci sta che quello sia attenzione quello che sia il mio futuro posto dove andare a vedere quando tutti sono impegnati nelle solite fungaie guardate un attimo il bosco sta iniziando a fiorire questo ovviamente non è un fungo che mi interessa però come vedete il bosco sta iniziando a fiorire segno buono segno buonissimo non mi da male il deserto pensavo di domeniaci fosse pieno di gente si fanno spaventare a due gocce di pioggia ma piazzale del birillone guardate non c'è anima viva anima viva non c'è guardate è pazzesco di solito qui ci sono tante persone è domenica sera ma tutto mio il bosco un sentiero che conosco conosco tutto mio il bosco ma c'è anima viva posso cantare ringrazio Danilo Vis non so se è ancora un professionista mi ha regalato questa borraccia grande Danilo grande corridore intanto la riempio in realtà non è che me l'ha regalata l'ha lanciata me l'ha lanciata addosso praticamente quasi e io ovviamente l'ho raccattata come fanno gli appassionati di ciclismo quando vi lancia la borraccia la potete raccattare a meno che non venga il massaggiatore e ve la richieda indietro quindi ai tempi le lanciavano non è che c'era quest'idea ecologica ora hanno l'area verde una lanciano più è andata male ai tempi si poteva guardate c'è ancora il graffio originario di quando è stata lanciata sull'asfalto qua vedete e perdate il mio abbigliamento ma qui continua a fare un freddo terribile e sono anche maniche corte almeno il passavontagna guardate voglio provare questo posto questa zona fungaiola che non ho mai affrontato perché come dicevo imbuttata così secondo me qua può essere buono ovviamente c'è un riferimento che anche voi potete utilizzare in caso trovasse un porcino guardate riferimento 1 la torre più alta è quella là mentre lì finisce la salita e poi c'è un po' di mangio e bevi e qua c'è il segnale su questo pinino giovane e qua se ci sono funghi sapete dove andare a cercare se non ci sono andate avesse voi li trovate non so dirvi perché però il rapporto dei porcini 1 a 10 è che versante quarrata o carmeniano versante diciamo vinci che è quello di là eh l'ho trovato quasi sempre su versante vinci quindi 9 su 10 e quindi dobbiamo smentire questa cosa ingiusta anche perché qua i versanti in teoria è più fresco e anche più riparato dalla tramontana però a quanto pare meno porcino comunque qui castagnetti bellissimi questo è un po' meno bello però questo sembra buono a mio parere l'ho occhiato perché è buono è perché mi serve appunto di riferimento quindi qui se poi ci ritrovo facilmente lo ritrovo anche senza gps è molto comodo questa cosa forse ci hanno già cercato immagino quindi facciamo un'occhiata se non trovo nulla proseguiamo verso la fungaia che volevo cercare più muscolo sono stati qui però anche qua c'è un muschio là andiamo a cercare il muschio qui sembra buono però l'unico fungo che ho trovato in tutta la zona vedete molto verbosa anche quindi abbastanza è questo questo che non so neanche se sia una russola forse non è neanche una russola ma non è è un fungo che beh sono anche difficili da determinare diciamo il più possibile farvi vedere eh non voglio cogliere non voglio appena cioè lasciamolo in pace e mentre inizia a piovere vabbè riprendo la bc e vado prima che diluvi sul versante per fortuna niente tuoni sul versante che vuole far vedere non lontano dalla zona che sarà certamente stata apprezzata io non ci ritorno per rispetto a voi lascio a voi sul campo e vado non lontano da lì in un'altra zona una pettata molto ripida che secondo me è buona se trovo lì qualcosa vi faccio vedere subito se siete fungaioli volete andare qua a funghi prendetela via a sinistra perché è quella più dove ho trovato più funghi poi magari ad essere dove dire di più ma non credo non credo quindi a sinistra che è stata molto più complessa c'è meno agevole sassosa però più fungaiola ecco non dite io non ve l'ho avvisato ecco cosa come ho ritrovato la bici sono finito nel macchione mi sono bucato tutto ovviamente guardate non è che sto scherzando è tutto sanguinoso ma vabbè per me è normale non è che comunque qui ho preso vedete questo spigolino e sono quelli che ti fanno andare giù sono andato giù di peso giù ho portato via il macchione comunque niente di grave tutto intero andiamo avanti alla fungaia vedete la strada c'è anche il cartello che indica proseguo in là io però sono entrato qua mentre dopo insomma meno male c'aveva il casco ma serviva poco in questo caso il casco perché mi sono più che altro fatto male alle gambe mi sono rimasto incastrato una nel sellino e una nel manubrio sono rimasto due minuti senza poter uscire dalla bici incastrato nella bici come quando succede con le auto in incidenza stradale rimani incastrato non puoi uscire per fortuna dalla bici piano uno la sposta sfira i piedi mi sono tolto le scarpe e sono uscito ecco più o meno è andata così e guardiamo un po' questo bosco questo è un bosco notevole secondo me l'ho sempre pensato però non ho mai avuto il coraggio di andarci perché dicevo ma sì però ecco è un momento buono di andare a vedere perché questo è un castagnetto puro guardate se vi posso dare un consiglio non aspettate a medicarvi le ferite perché guardate in questo caso uno si medica subito e ho direi che è un dentifricio disinfettante di quelli molto alla clorexidina un dentifricio alla clorexidina ce lo date subito sulla ferita a frizzare un po' però così avete una breve protezione no altrimenti poi vi potete fare prendere qualche infezione a giro oppure insomma peggiorare la situazione o se no ve lo sciucciate come facevo io prima ecco vabbè tanto per dire però è un po' più igienico così avanti questo è il posto bellissimo guardate questo è un castagneto meraviglioso come è possibile qui non è che il porcino come è modo di porcino non presentarsi in questi luoghi meravigliosi non farsi trovare o c'è già qualcuno che ci va sempre e non me li fa vedere cosa probabile però questo è un posto un po' remoto siamo quasi in cima alla montagna tra l'altro 600 metri d'altitudine qui siamo più alti della fungalia del cinquivio di cui c'è ancora da scendere un bel po' per arrivarci e qua che c'è qua che c'è io qua invece lo aspetterei su questi sciglioni vedete andate a guardarli sempre questi sciglioni qua la bici è sempre indicatore di fungalia di solito mi fermo con la bici e trovo funghi non so perché avete visto prima il galletto tutti sapete questi sciglioncini qui muschiosi sono l'ideale per il porcino accompagnate a questi splendidi fiori che mi ero ricordato come si chiamano ma sono di nuovo dimenticato vabbè lascio dire a voi perché io ho la memoria di un pesce rosso a quanto pare e andiamo avanti guardate il bello bellissimo come fa qui a non esserci il porcino perché sembra proprio il posto se non me l'hanno già accolto guarda ci fate un buchettino di cogitore così poi ci ritorno quando la buttata sembra calare e gli frego il posto ma attenzione è una russola no non è una russa è come quella di no forse è una russola sì è quasi una russa è una russa siamo un po' fine ma sembra una russa questa sì 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 russola va bene poi vabbè andiamo a posto clou via ma ci siamo scendiamo un po' andiamo a posto clou che si trova dopo la famosa curva del porcino dove non ho trovato nulla mi fermo stavolta ma non firmo tanto non ce lo trovo mai ormai la curva del porcino è stata è caduta in disuso anche perché voglia di sulla strada secondo l'ho dopo ho fatto vedere dieci volte il posto qua che c'è niente va bene andiamo avanti direttamente a fungare segreta nel posto muschioso ripido per evitare di ciò ai suoi sassi mi sono presso la variante variante che può essere buona come un posto fungaiolo quando faranno le querce qui ci sono querci e pini soprattutto questa è la variante buona anche poi non ci sono i sassi scorre molto meglio dell'altra della strada principale che è tutta sassosa bene credo che sia il momento di salire qua qua siamo sopra la fungare che vi ho fatto vedere l'altra volta andiamo seconda volta vengo qui dicendo che è un posto buono la prima volta anche era imbuttata ma non trovai nulla perché nella fageta mistica voi sapete io ho trovato tantissimo l'anno scorso ma negli anni precedenti ero convinto fosse un gran posto ma non trovavo mai niente non è arrivato nel momento giusto al posto giusto non avevo visto i funghi probabilmente c'erano ma non li vedevo e questa è una cosa che capiterà anche a voi andate la fungai migliore del mondo e non li vedete io ho questo indicatore qua la bici che mi indica sempre dove sta il porcino il solito piazzo la bici intorno faccio tutto il giro faccio un chilometro poi torno alla bici e trovo il porcino però prima non lo trovavo devo prima fare il giro e poi trovarlo perché magari è là sotto non riesci ad andare subito là sotto per motivo della collassa la funzione d'onda e faccio tutto il giro qua troverò 20 galletti e forse anche qualche porcino ma se non lo trovo quasi sicuramente sta lì alla bici ed è interessantissima questa cosa guardate che bosco questo è il bosco è migliore di quello sotto tra l'altro che mi ha dato così tante soddisfazioni avete visto secondo me è pieno di porcini via si fa così stop la riprese e al primo porcino pam appare facciamo allora la tecnica del collasso funziona d'onda funziona d'onda e se porcini trovo pochi ve li faccio vedere un po' tutti no sapete in questo caso ve li farò vedere ma galletti anche poi mettiamo a filmare ogni galletto che trovo questo è bellino questo vi faccio vedere bellino guardate messa a fuoco perfetta mettiamo ecco è bellino e via sotto questo nel cisto anzi nella mia sacca sapete cosa sacca sacca da funghi sacca da fungaiolo questo cignone è molto buono avete visto che c'era là no bene ora quello che è doloroso fare per un buon fungaiolo è andare a allargare la zona fungaiola che ha trovato che io questa conoscevo da tempo l'avevo allargata con il video precedente avete visto i due video precedenti l'hanno allargata e ora vado ad allargare ancora un po' per vedere fin dove arrivo guardate la strada sotto vi do un punto di riferimento c'è la strada sotto laggiù quindi ora sono di nuovo fra le due strade però molto più in qua così mi allargo la zona fungaiola vediamo che trovo via e anche qui si vede che è un bosco fantastico poi magari sono già passati quelle dani conoscono queste fungai però forse non sono passati perché se trovi questo significa che non c'è ancora stato nessuno detto è c'è la sua età anche quindi vuol dire che siccome si vede molto meglio il galletto e tutti lo prendono significa che il posto è ancora vergine diciamo e andiamo avanti e quando non trovo i funghi che cerco appare una grande verità i funghi non sono dove tu credi che siano ma sono dove essi si trovano quindi io credevo che fossero lì non ci sono sono dove essi si trovano cosa vi dice questo? guardiamo se chiudiamo in bellezza la puntata con un colpo di scena in amoroso e quindi andiamo dove i porcini si trovano una grande realtà che io conosco da tempo qual è? è quella che dice meno fai più fai cioè fai meno e otterrai di più spesso succede questa cosa quindi uno che cerca con determinazione un porcino non lo trova se invece si lascia guidare dalla casualità ecco spesso gli capita di attiro per sbaglio vale per i funghi come vale nella vita quello che si cerca potrebbe essere davvero molto più a portata di mano di quanto noi non crediamo tipo qua perché spesso quello che veramente ci manca e manca a molti qua che sono passati guardate si vedono i passi nella polvere che purtroppo è prevuto veramente poco guardate i passi nella polvere essi hanno cercato si sono si sono impegnati hanno sudato hanno cercato un galletto magari anche il porcino ma un galletto lo volevano prendere e poi invece lo hanno lasciato a bordo strada un galletto di dimensioni notevoli e nemmeno uno solo guardate quindi quello che noi cerchiamo è davanti ai nostri occhi se abbiamo gli occhi per guardare oh questo è bellissimo ce l'abbiamo gli occhi per guardare? ce l'avete gli occhi per guardare? ce l'abbiamo gli occhi per guardare? io a volte non è che vedo benissimo della verità e voi? la prossima puntata nella svizzera pesciatina ve lo dico subito andiamo là nella svizzera pesciatina non vi dico dove perché è una sorpresa vi dico inizia con la M e finisce con la A ma ciò che mi importa è fare il famoso teletrasporto galletto perché questi 50 chilometri voglio farli al volo così iscriviti al canale youtube chiocciolo all'eremita è gratis e attiva la campanellina per non perdere nessun video grazie a tutti